ben trovati benvenuti per chi è la prima volta che che accede a questo a questo canale e questo video breve sull'ultimo acquisto fatto da mac come qualcuno di voi mi ha fatto notare non c'è più il back to mac mi dispiace un po perché era diventata una tradizione raccogliere tutte le confezioni vuote i contenitori vuoti del dei prodotti terminati ed era anche motivante per la restituzione e il piccolo regalo che ti davano comunque ricicliamo lo stesso allora questo questi prodotti l'ho acquistati in occasione del single day single day non so se c'è stato i primi di novembre se non mi ricordo comunque ne approfittato subito per per prendere delle cose che avevo nella mia lista dei desideri allora tra le cose che ho scelto vediamo fuori questa siamo fuori tutto e e decidiamo insomma ok altrimenti fa troppo fa troppo rumore bene metto gli occhiali perché altrimenti non vedo nulla perfetto meglio così ok siamo pronti ok allora questa è la crema idratante questa dovrebbe essere molto consistente e per real non mi ricordo quanto mi sembra costava sulle 60 euro e l'ho pagata con 20 25 di sconto c'era il 25 di sconto in quei giorni questo adesso non l'apro perché sto finendo quella che ho già e quindi lo userò a breve farò sapere in occasione insomma è anche autunno in vero comincia a far freddo quindi è comodo una potente crema idratante questo è un rossetto questo è il red rock numero 640 spero di aver indovinato perché l'avevo visto da mac tempo fa mi quest'estate dovrebbe essere questo si è questo che è un rosso che con un sottotono freddo messano male i sottotoni che il sottotono mi sento tutto ciò che sottotono caldo giallo e quindi uso questi rossi da sottotono freddo ok non so se è la linea non c'è scala ma linea matt questo è matt vediamo se è petta fuoco ok matt perfetto 640 red rock allora qui abbiamo invece mi sono buttata sugli ombretti questo è un soft matt vellutato questa linea è bellissima io ne ho anche un altro sul viola mi sembra si mi ha comprato sul viola questo vedo niente give e glam vediamo che non mi ricordo neanche colore dovrebbe essere un marrone cioccolato perché questo è un marrone cioccolato molto scuro io uso molto gli smoky questo è un marrone cioccolato oscurissimo vedete se proprio bello bello carico ok lo userò con molto molto piacere io adoro questi adoro gli ombretti proprio scuri allora queste invece sono tre paint pot allora qui abbiamo painterly it's fabstrat black mirror allora cominciamo da painterly penso che tutti voi lo conosciate questi ho già l'avuto in passato questo colore non lo apro ripeto perché perché ho già in uso e non c'è in uso uno aspetto di finirlo e poi metterò un comincerò a usare questo questo è un color beige rosato color color pelle insomma molto comodo come base molto comodo anche come ombretto singolo certo non è che usate ombretto singolo color beige comunque questo invece è dovrebbe essere un colore marrone questo lavoro perché voglio iniziarlo eccolo qua questo è un marrone anche questo cioccolato bellissimo mamma mia quanto è bello ok e quindi questo lo ne approfitto subito dopo esco e lo me lo uso questo qui invece è black mirror questo è il nero il nero della della dei paint pot non lo apro questo qui perché lo userò insomma è molto dark è molto carico e quindi servirà a fare tutti quei 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 trucchi per le feste per le serate eccetera e sapete tutti che il nero il carbone quei colori così in polvere si rendono ma sono mettete sotto una base molto carica poi sono un po sbiaditi e quindi io ho comprato questo apposta questi sono i miei piccoli acquisti da mac niente di che sto facendo ho fatto sto finendo il decluttering per ciò che riguarda tutto il mio beauty perché ho troppe cose troppe cose che non ho utilizzato mi sono resa conto anche di quello che effettivamente uso di quello che mi piacerebbe usare ma poi all'atto pratico finisce nel dimenticatoio perché ho per un motivo per un altro poi alla fine rimandi sempre quindi ho regalato un bel po di cose il mio cassetto è quasi dimezzato considerate che aveva un cassetto di circa un metro anzi due cassetti di un metro e venti stracolmi di beauty di trucchi di make up e quindi uno di questi è dimezzato l'altro sto provvedendo perché nell'altro ci sono anche pennelli anche altri accessori vari insomma tutto ciò che riguarda le unghie eccetera ci aggiorniamo con il prossimo video ciao buona giornata a tutti